Ciao da Arsim e buongiorno, buongiorno, ben svegliati. Qualcuno si è svegliato? No, mi sa di no, mi sa veramente in pochi. Più che altro c'è qualche aggressivo tifoso allegriano che, come al solito in questi casi, ha rimesso la testa sotto la sabbia e quindi non è andato a vomitare la sua aggressività in giro, soprattutto dalle mie parti. Ma non credo che più di qualcuno si sia svegliato perché basta ascoltare i commenti dei soliti noti, di quelli che continuano a danneggiare la mente e la cultura residua della tifoseria juventina, dando la colpa ai giocatori oggi per questa bellissima disfatta di Sassuolo, Sassuolo-Alegrentus 4-2. E come ben sapete, per me non conta, il risultato conta relativamente, quello che conta è la prestazione e della prestazione. Parlo, avendo guardato la partita. E il punto è sempre quello. Perché adesso ci si straccia le vesti? Soltanto perché si è perso, perché sono risultatisti, siete risultatisti e del risultato negativo date la colpa ai singoli giocatori. Ma non riuscite a vedere oltre l'episodio. Il problema è che Scesni fa la papera, il problema è che Gatti fa l'autogolle, il problema è che Vlaovic sbaglia un gol, peccato che fosse anche in fuorigioco. L'unica occasione che ha avuto dopo il sessantesimo, l'unica occasione significativa che ha avuto dopo il sessantesimo. Per il resto ha dovuto attorcigliarsi su qualche cross e provare a sbattersi in qualche modo su qualche pallone prevalentemente di Chiesa. Che è l'unico che esce dal campo con dignità o forse uno dei due. L'altro sarebbe proprio Vlaovic, anzi diciamo uno dei tre perché ci metto anche fagioli. Ma infatti la cosa positiva di questo schifo di squadra è che quando sarà rimosso il male, quando sarà rimosso il male, nonostante poi servirà tantissimo altro tempo per rimuovere l'atrofizzazione del resto del corpo di questa squadra, ci saranno però dei buoni giocatori, ci saranno dei buoni giocatori con dei valori, con delle caratteristiche, delle qualità e delle capacità che andranno bene per qualsiasi allenatore e che andranno bene soprattutto per degli allenatori veri. E sto parlando delle qualità e delle caratteristiche fisiche e mentali di Chiesa, di Fagioli, di Vlaovic e di qualche altro. Ma appunto, che partita è stata a livello di prestazione? Una partita orribile, ma come tutte le altre. Nei primi 4-5 minuti l'Allegrentus è andata un pochino più alta ad aggredire, un pochino è stata più alta, ha sporcato le giocate difensive del Sassuolo. Poi dopo 4-5 minuti è finito tutto, non c'è stato più alcun altro sprazzo, alcun'altra affolata, se non qualcosina un po' disperatamente nel secondo tempo. Per il resto, come al solito, gioco ristagnante, arretrato, i difensori che non sanno come impostare a chi passarla. Locatelli, gli esperti si interrogano sull'utilità di Locatelli in un campo di calcio, se non per l'avversario. Ecco, per l'avversario Locatelli è utilissimo. E poi, infatti, quando c'è il cambio, rimane Fagioli a dover fare il regista. Si era parlato di Fagioli regista. Recuperate il mio episodio di non guardate l'Allegrentus, non guardate Sassuolo Juventus in onda ieri durante la partita perché è pieno di roba vergognosa che è stata detta la settimana scorsa, tra cui che Fagioli deve imparare a fare il regista. Alla fine della partita, quando Allegri, capendo benissimo di calcio, è veramente un esperto, toglie Locatelli per mettere Milik perché con un attaccante in più tiri di più e infatti non si è tirato per niente, Fagioli a un certo punto si è ritrovato in mezzo al campo che si sbracciava. Cioè, la calma olimpica di Fagioli non gli ha impedito di sbracciarsi e di lamentarsi con i compagni perché nessuno si proponeva. Tutte scene raccapriccianti. Ma poi, qual è la narrazione? Qual è la narrazione? È colpa di Gatti, è colpa di Scesni, è colpa dell'arbitro perché Berardi andava espulso. Guardate, io non mi voglio neanche pronunciare, non mi voglio pronunciare sul fallo di Berardi su Bremer. Sapete perché? Perché poi, qualunque cosa io dovessi dire, viene fuori che io odio Allegri e quindi parlo perché odio Allegri. Per cui fate una bella cosa, andate a farvelo spiegare da Zuliani e da Zampini che loro sono sempre precisissimi in queste spiegazioni e già che vi trovate, portategli anche un bel pacchetto di fazzoletti anzi, una bella fornitura, ecco, mi veniva il termine fornitura una bella fornitura abbondante di fazzoletti perché ne hanno bisogno perché continuano a piangere e piagnucolare sistematicamente a Zuliani e a Zampini portategli i fazzoletti quando andrete a farvi spiegare da loro l'episodio a me non interessa dire, mi limito a dire soltanto una cosa diciamo che Berardi andava espulso quanto tempo mancava? Una mezz'oretta alla fine della partita? Bene, questo vuol dire che l'Allegrentus quella che oggi TuttoSport sbatte in prima pagina con la responsabilità dei giocatori che valgono o costano 145 milioni per battere il Sassuolo in trasferta e in rimonta sul risultato di 2-1 per gli avversari ha bisogno di giocare in 10, in 11 contro 10 ha bisogno di stare in 11 con gli avversari in 10 ma questo non lo dico io, lo state dicendo voi l'Allamentela e il piagnistero sull'espulsione di Berardi porta a questo, porta esclusivamente a questo invece di dire, non me ne frega nulla ha fatto bene l'arbitro anche se ha sbagliato a non espellere perché io voglio sono forte, voglio dimostrarlo anche contro le avversità no, state lì a piagnugolare ma forte di che? forte di cosa? adesso è tornato è tornato il meccanismo macabro dell'insulto ai giocatori il meccanismo del gettargli fango addosso e quindi Vlaovic che era quello che aveva aggiustato il destro adesso non riesce più a calciare né col destro né col sinistro non la riesce a stoppare non riesce a fare i colpi di testa ma non sarà detto in settimana che la cura Max che la cura Max recuperate l'episodio di non guardate l'Allegrentus non sarà detto in settimana che la cura Max aveva migliorato Vlaovic che adesso sapeva giocare solo col destro ma non sarà parlato in settimana dei grandi allenamenti fatti da Allegri che poi però sguinzagliava Magnanelli e Paduini in mezzo al campo recuperate l'episodio perché c'è un bellissimo articolo di Tutto Sport che vado a citare di questa scorsa settimana in cui si dice che Allegri dice a Cambiaso in allenamento di tornare indietro dopo che si è perso il pallone e a UEA di non tentare la giocata mentre si sta facendo il fraseggio dove era Cambiaso ieri? tutta la partita in panchina dove era UEA ieri? subentrato ecco i grandi giocatori e Allegri ha detto prima della partita UEA in questo momento è un buon cambio perché deve ancora capire il campionato italiano e poi va a umiliare tutti i giocatori è lui che umilia i giocatori e voi continuate ad applaudire continuate a sostenerlo anche questa volta Allegri ha strameritato l'esonero immediato ieri sera ieri sera appena mollati i microfoni appena allontanato si dalle telecamere andava cacciato perché? perché non ti puoi permettere di andare davanti ai microfoni e dire Gatti ha solo 30 partite non 100 con la Juventus quindi ha fatto tanti errori ne farà altri ma mettendo il focus su Gatti non puoi dire che Vlaovic ha avuto le occasioni ma le ha sprecate e deve trovare l'equilibrio perché si è innervosito quando è stato sostituito perché non si è capito il cambio non è questione che Vlaovic non ha equilibrio o sbaglia i gol e non ha capito il cambio non è servito a nulla a cosa è servito fare entrare Ken a nulla ma perché questo è il punto Allegri inserisce i giocatori o li toglie in base alle caratteristiche che hanno i giocatori non perché c'è uno schema non perché c'è una tattica non perché lui sa dire sa dare sa che cosa devono fare i giocatori sa dare loro degli strumenti e glielo sa spiegare e quindi si va a tutto quanto a distanziarsi da quello che dovrebbe essere il focus e l'attenzione dopo questa partita e ci si concentra su tutt'altro su cose che vanno tutto a favore della narrazione dell'allenatore che dice addirittura l'avevo detto è tutto sport mette in prima pagina Allegri che l'aveva detto aveva ragione avete capito cioè ha ragione Allegri Capuano che scrive ha ragione Allegri ma poi di questo parleremo nel prossimo episodio di non guardate l'Allegrentus perché qui tra tweet e articoli siamo già pieni siamo già sommersi di robaccia da far vedere nel prossimo episodio in onda martedì dalle 20.45 in premiere su questo canale durante Allegrentus Lecce non guardate Juventus Lecce e ci godiamo tutte le schifezze che hanno detto e che stanno dicendo tutte cose fantastiche addirittura Allegri l'aveva detto c'era troppa euforia dobbiamo vincere lo scudetto no non dobbiamo Allegri ha detto ieri non dobbiamo vincere lo scudetto cioè non non siamo tenuti non siamo obbligati non dobbiamo proprio vincerlo sarebbe una cosa straordinaria arrivare tra le prime quattro perché ci sarà una fatica si farà una fatica enorme a vincere ogni singola partita grazie con te in panchina addirittura ha detto abbiamo giocato in maniera troppo allegra abbiamo fatto una partita troppo allegra sì esatto troppo allegra c'era troppo allegri in questa partita veramente una cosa dov'è il gioco dov'è il calcio lo so che ho detto l'allenatore Magnanelli ma l'allenatore Magnanelli nel senso che è l'unico che nel suo piccolo per quel poco che gli viene concesso fornisce degli strumenti a questi giocatori nell'andare in campo perché se Allegri in allenamento dice a Cambiaso che non deve andare ad aggredire alto da solo e poi però vediamo che Vlaovic e Chiesa lo fanno allora Vlaovic e Chiesa stanno ascoltando qualcun altro evidentemente e continuano a giocare titolari perché senza di loro dove vai Chiesa ha strattonato Allegri nell'esultanza dopo che ha segnato chissà con quali pensieri ma voglio sperare che siano quelli giusti e che magari Gatti si sia ammutinato l'abbiano fatto apposta Gatti e Scesni Scesni non parando il tiro di Laurentier e poi facendo anche questa topica clamorosa ma mi auguro che l'abbiano fatto io spero che l'abbiate fatto apposta per la vostra dignità perché lo vedete che cosa succede dopo quando perdete la partita è colpa vostra ma non avete rabbia ad essere trattati in questo modo ad essere bullizzati dai giornali e dal vostro allenatore bullizzati dai giornali e dal vostro allenatore un'umiliazione continua nei confronti dei singoli e poi c'è Danilo che va a dire ai microfoni non siamo i campioni che si dice non siamo forti come si dice ma non ti vergogni Danilo vergognati vergognati tu che dici che è allegri come Guardiola vergognatevi questi sono i pretoriani di Max che stanno ancora lì che stanno ancora lì perché non avrebbero alcun merito di stare lì se non stessero dalla parte dell'allenatore per non utilizzare altre espressioni altri verbi che potrebbero urtare la sensibilità di qualcuno se non stessero dalla parte dell'allenatore non varrebbero nulla cosa vale Danilo che partita ha fatto Danilo ieri ma tutti quanti perché non ci sono idee non ci sono strumenti c'è qualcuno che si salva perché ci mette una certa abnegazione un certo spirito ma ce lo mette nonostante l'allenatore nonostante l'allenatore cioè qui stiamo parlando di avere perso contro un sassuolo che ha straperso sul piano del gioco contro il Frosinone cioè il Frosinone ha giocato 10 volte meglio della Juventus da 145 milioni di cui oggi ci ricorda Tutto Sport in maniera vergognosa perché Tutto Sport dove sono i soldi che ha preso Allegri questo è il terzo anno dove sono i costi di Allegri quello che costano i giocatori ma che colpa dei giocatori se io vado a prendere Bremer 50 milioni e tu Tutto Sport applaudi all'operazione che colpa ne ha Bremer che è stato pagato 50 milioni se tu vai a prendere Vlaovic a 90 milioni e tu Tutto Sport esalti l'operazione che colpa ne ha Vlaovic che è costato 90 milioni vogliamo parlare degli stipendi la stessa cosa che colpa ne ha Bremer se lui stava andando all'Inter felice felice a prendersene 3 e voi gliene offrite 5 e lui giustamente a quel punto accetta è colpa sua che gliene avete offerti 5 che gliene hanno offerti 5 e tu Tutto Sport ad esaltare l'operazione adesso contano solo gli stipendi dei giocatori o il loro costo del cartellino e Allegri non conta ma andatelo a rinfacciare ad Allegri che questi giocatori valgono 145 o sono costati quello che sono costati perché stanno in mano sua la responsabilità è la sua ma questo è tutto molto divertente in realtà se ci pensate al di là dell'alzare i toni di un po' di rabbia che inevitabilmente va sfogata perché troppo lo schifo che ci avete riversato addosso troppo e abbiamo sempre avuto ragione ma è tutto molto divertente perché avevamo previsto tutto alla prima sconfitta colpa dei giocatori eccovi vi dovreste vergognare voi sedicenti tifosi della Juventus perché veramente veramente siete preoccupanti a livello umano siete preoccupanti a livello umano la vostra mediocrità che trasuda ad ogni situazione è veramente pericolosa una mediocrità pericolosa state insultando i vostri giocatori per non criticare il responsabile che è l'allenatore lo vedete che è il responsabile all'allenatore o no vi rendete conto vi rendete conto che sono stati surclassati sul piano del gioco e non ho detto molto sulla prestazione perché alla fine che cosa c'è da dire le solite cose non c'è uno schema d'attacco che sia uno si suppo devo sentire da Giovanni Albanese Giovanni Albanese quello che concorda le domande con Massimiliano Allegri in conferenza stampa non si possono perdere tutti questi duelli vado a vedere i dati l'Allegrentus ha stravinto tutti i duelli duelli aerei duelli complessivi duelli difensivi duelli offensivi li ha stravinti tutti quanti duelli ieri in questa partita di cosa dobbiamo parlare questo sarebbe giornalismo quindi che cosa dobbiamo dire che poi voi vi fate condizionare dai giudizi di quelli bravi che se la prendono con i giocatori e quindi state a posto siete tranquilli anche questa domenica anche oggi potete evitare di svegliarvi perché avete la coperta calda di chi vi dice che è colpa dei giocatori e quindi non dovete fare lo sforzo di vedere che magari avevo ragione io avevamo ragione nell'avvertirvi che questa squadra anche nel bello e nel magico e nello strepitoso che si raccontava sui vari giornali in queste settimane faceva schifo perché non c'era niente di nuovo niente di consistente niente di significativo sempre la stessa roba e anche fosse stato qualcosina di nuovo sarebbe stato comunque inaccettabile dopo due anni e un po' di lavoro presunto lavoro e Allegri che dice possono capitare queste partite una volta l'anno a Sassuolo che poi a Reggio Emilia ci sono sempre queste partite un pochino strane e faremo una fatica enorme e sarà un miracolo arrivare i quarti ci sono squadre più attrezzate ma come ti permetti ma vi rendete conto che questo va davanti ai microfoni a mettere fango sul lavoro che è stato fatto dalla società e dai dirigenti sui soldi messi dalla proprietà allora è vero che il più grande nemico è John Elkan perché John Elkan nonostante si prenda direttamente il fango in faccia da Allegri lo ha tenuto lì e allora evidentemente a John Elkan il fango in faccia piace molto dobbiamo immaginare perché lui l'ha tenuto lì lui l'ha tenuto lì l'ha tenuto lì lui lo avevano cacciato tutti sapevano che era stato cacciato il 4 giugno tutti lo sapevano poi il 5 o il 6 è successo qualcosa il 7 è stato confermato da Scaravino dopo la fine della scorsa stagione lui l'ha tenuto lì e che cosa fa Allegri va davanti ai microfoni a dire che la squadra non vale con i soldi di Elkan bellissimo con i soldi di Elkan compresi quelli che prende lui sullo stipendio perché sono soldi dell'Allegrentus ma adesso si parla di un altro aumento di capitale quindi capite che alla fine i soldi sono sempre di Elkan tutto bellissimo tutto meraviglioso che cos'altro aggiungere qualche notazione sui dati anche in questa partita l'Allegrentus ha fatto prevalentemente il proprio possesso palla nella propria metà campo poi ha subito qualcosa come 7 tiri nello specchio una cosa del genere 7 tiri nello specchio su 18 tiri totali non è andata oltre l'84% di precisione dei passaggi ha tenuto un baricentro medio sempre più basso del Sassuolo tranne nel primo tempo quando però comunque l'Allegrentus ha avuto un baricentro al di qua della linea mediana quindi nella propria metà campo poi che dire McCennie che deve giocare terzino Costic che deve giocare terzino poi giocare cioè senza costrutto ma questi giocatori se ne rendono conto di quanto sono umiliati di quanto sono sviliti se non se ne rendono conto i tifosi che continuano continuano a bersi quello che gli dicono certi giornalisti certi creators certi opinionisti che diffondono veramente a tratti delle falsità e in altri casi delle opinioni insostenibili che almeno si sveglino i giocatori che almeno vadano da Danilo a dire ma che stai dicendo cioè tu sei andato a dire che noi siamo scarsi ma come di cioè è benissimo allora è tutto bravo l'allenatore povero Max povero Max ma continueremo a parlare di questo solo questo volevo dirvi davvero non c'è molto altro da aggiungere sulla prestazione è semplicemente una vergogna una vergogna che ancora vi facciate prendere in giro con la storia che è colpa dei singoli giocatori e dei singoli errori come se poi tra l'altro Cesni non avesse fatto dei miracoli anche ieri per cui se togli i miracoli di Cesni quanti sono i gol che cosa conta l'errore di Gatti che va da 3 a 2 a 4 a 2 che cosa conta la papera di Cesni nulla ma si deve guardare all'episodio perché è strumentale a continuare a sostenere questo allenatore la perso il professionista che più immeritatamente nella storia dell'umanità ricopre il ruolo che ricopre la più grande sciagura nella storia della Juventus abbiamo sempre avuto ragione vergognatevi svegliatevi molti di voi purtroppo fanno schifo a livello umano e qualcuno ve lo deve dire e spero che qualcuno ve lo dica spero che vi sveglierete ma è veramente difficile serviranno anni non basta una sconfitta come questa ne servono 100 di fila 100 sconfitte di fila in questo modo con Allegri in panchina fino alla centesima e forse forse tutti quanti si sveglieranno forse per cui chiaramente capite che mai si sveglieranno tutti quanti e quindi il degrado culturale di questa tifoseria continuerà a produrre danni ma i responsabili hanno volti nomi e cognomi grazie per l'attenzione buon dibattito nei commenti visto che proseguiamo a bannare decine di utenti a settimana like e condivisione se il video vi è piaciuto iscrivetevi attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti soprattutto i prossimi episodi di non guardate l'allegrentus la rassegna allegriana che è fondamentale per sapere cosa dicono qual è la narrazione abbonatevi al canale a partire da 99 centesimi al mese per tanti vantaggi e seguitemi pure sul mio secondo canale Apsim Out primo link in descrizione per video brevi sul calcio ci vediamo molto presto e senza compromessi sempre allegri out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Apsim Out Grazie.